Nell'ultimo consiglio comunale di Viareggio il sindaco del Ghingaro ha sollevato l'interessante questione del destino del teatro Eden proponendone l'acquisto per trasformarlo nel nuovo cuore culturale di Viareggio. Tuttavia un vivace dibattito è già in corso in città. Il comitato Salviamo il Politeama ha ribadito l'importanza storica e affettiva del Politeama sottolineando il rischio di perderne la ricca tradizione se dovesse essere trascurato ulteriormente. La riapertura dell'Eden sarebbe sicuramente un'ottima notizia indubbiamente ma rimane ancora il problema che il Politeama rimasto chiuso porterebbe ad un vulnus della città perché perderebbe comunque un valore storico-culturale che è insostituibile. Ammesso e concesso a chi si possa anche riacquistare il teatro Eden a costi che oggi non sono ancora ben noti che cosa ne sarebbe del Politeama? Il fatto che il Politeama appartenga al Demanio fa della città qualcosa a cui non interessa più questo edificio potrebbe essere abbandonato a se stesso? Non ci sembra che questo concorrerebbe a fare di Viareggio una città bellissima. Intanto il comitato Salviamo il Politeama chiede di visionare i documenti in mano al Comune. Nonostante questi dati siano stati chiesti da molti mesi, il Comune non ha mai ritenuto opportuno consegnarceli perché la definizione è che questi non erano ancora in atti. Oggi dopo le dichiarazioni del Sindaco credo che dovrebbero essere disponibili.